Eccoci qua, questa è un'opera d'arte secondo me Ora non so che questa può essere definita parodia di Kung Fu Panda Anche se è uscito prima di Kung Fu Panda, ovvero nel 2007 è uscito questo O proprio, bene si è uscito nel 2007 Spero non ci sia la clip che hanno messo in Gumball Ovvero, beh non ve lo spoiler Guardiamolo che è meglio Così ci togliamo questo cringe, questo trash davanti Preparatevi Pensavate che i dinosauri fossero peggio Questo è ancora peggio Iniziamo con una grafica di alta qualità Si tralasciamo quello Ok abbiamo il nostro panda magnifico Fatto in 3D che sta sculettando Mentre è appoggiato sullo spazzolone Ma chi è questo? Ma chi è sto orso? Mi scusi tanto signor Polaris Mi sono distratto solo un attimo Non succederà più, glielo garantisco Oddio no, questo è lo stesso doppiatore di toso Stasera c'è un incontro di box e quindi c'è il doppio di lavoro da fare No vabbè, ne ho preso pure doppiatori buoni in Italia Un incontro di box, un incontro di box E allora che mi importa di un maledetto incontro? Come cazzo si muove? Cioè si muove proprio male Già iniziamo alla grande Che cazzo sto vedendo io? Ti conviene fare attenzione pancada Se il capo ti scopre di nuovo a sognare ad occhi aperti Ti licenzierà in tronco mio caro Oh cielo, i panda Ma questa è discriminazione per i panda Ma no, ma questa è discriminazione Io mi dissocio Chi è quest'altro? Sembra che... Come posso dire? Impacco alzato ecco Con che grafica poi, me lo dici Ha intenzione di strappare il titolo al campione indiscusso degli ultimi due anni Fenomen Orso Questo è un incontro in cui tutto può succedere Che meraviglioso attacco di pancia da parte di Tenerorso Forse queste... È una madonna! E invece ho paura di no, signore e signori Il campione Fenomen Orso ha appena vinto il suo 45esimo incontro di... Non viene mai colpito Non ci posso credere Questo fenomeno Orso mi sta rovinando Deve sparire, te lo dico io Finiamola Così a caso, tutto a caso sta succedendo Se dovrebbe cambiare il suo nome in noio sorso Già, hai ragione Era la stessa cosa quando combattevi tu Polaris Sei stato campione per creare di seguito Prima di ereditare questo club e ritirarlo Gionzina vince, di certo Gionzina Non lo dire nemmeno per scherzo Se torni a combattere Perdi il club Ricordati del fatto che hai firmato Salutiamo la voce di Gordon Ramsay Povera voce stuprata Ma la qualità dei movimenti è assurda E per la qualità proprio trash Che tutti vogliamo Ma perché? Raspira nel fianco per Polaris Ma le ragazze sono tutte pazze di lui Già, hai proprio ragione Mi piacerebbe che guardassero me in quel modo Ma... Beh Non piace combattere Beh, come panda Troppo violenta Non direi Smettila di dire idiozie Che cosa stai cercando di dire, pancata? Oh, beh Io volevo dire che adoro la box Ah, che bello Guardate che muscoli E che ne dici del nostro pancata? Non gli piace la box Perché dice che è troppo violenta Ma... Lo cazzo vive sto panda Non dovresti tornare al lavoro? Ho già finito Il fatto è che il signor Polaris Non ha esattamente il miglior umore del mondo In questo momento Volevo chiedermi se posso uscire prima Ma non ne ho il coraggio Vuoi uscire prima? E che cosa devi fare? Non avrai certo un appuntamento? Chi mai uscirà via con te? Ma no! Ma no! No! Bullismo sul panda, no! Allora, chi è? Posso disturbarla, signore? Sì, pancata, puoi entrare Bene, mezz'ora per camminare, sto tizio Ecco Puoi parlare Volevo chiederle se, insomma, se non le dispiace Ecco, vorrei uscire prima stasera Eh, questo dipende Hai pulito bene il ring? Sì, signore E il pancata? Ovviamente questo fa da schiavo O dalla cosiddetta donna delle pulizie Anche se io chiamerei panda delle pulizie Va bene Giusto che stasera è una serata fiacca Puoi andare Non c'è più Nessuno è interessato ai combattimenti come una volta Tutte le sere sono scarse ormai Sparisci, vai fuori dai piedi Non è colpa mia se non fanno buona pubblicità Non si butti giù così È solo un brutto momento Neanche Fenomeno Orso può continuare a vincere in eterno Due anni, pancata Sono due anni che è il campione E finché rimarrai battuto Gli affari andranno sempre peggio Ah Beh, ma È molto popolare Eh, alla gente piaceva vederlo combattere Ma ormai sono passati due anni Il pubblico si è staccato, ragazzo E va a vedere un riconto Due anni che vince da gioco Chi sarà il vincitore Il problema è che nessuno è abbastanza forte Praticamente come la Juventus adesso Che siamo rotti veramente i maroni Scusate, tu che mi siete ben grado di farlo, signor Polaris Oh certo, manderei al tappeto Quella testa di budino in soli due round Ma allora perché non ritorna sul ring per dargli una bella ricetta? Oh, bella Non mi è possibile Da quando è ereditato questo club ho dovuto ritirarmi No, davvero Questa non ci voleva Ma perché sta graffiando il tavolo quello? Non mi è un bel d'appare anche senza i combattimenti Vorrei tanto poterla aiutare Ma non saprei da dove iniziare Con la box, intendo Ah, quindi è il panda che deve prendere il posto del tizio Beh, a dire il vero Non sono mai stato un grande amante della box La trovo decisamente troppo violenta per i miei gusti Faccio finta che mi piaccia Troppo violenta Troppo violenta Ho capito che sei un panda Esatto Mi sono creato una maschera Una maschera? Ho trovato! Vai, vai, Anto Mi hai appena fatto venire una grande idea Oddio Che... Chi è questo, mo? Mi scusi per il ritardo, maestro Shin Tu vai subito a mettere i tuoi vestiti Per le citare mantra Non interrompe le mie meditazioni Cosa si chiama maestro Shin? Mi sono fermato a parlare con il mio capo al club E prima che me ne rendessi conto Vale, infletta, subito Maestro Shin, le giuro che non arriverò più in ritardo E glielo prometto Ma perché parla come un cinese Di quelli che vendono i vestiti? Ma che cazzo Ma io non sto capendo un cazzo Tua mente adesso sta levagando Io? Vagando? Certo che no Vedo molta confusione in testa di giovane panda Che cosa ti ha buttato giù tanto, pancada? Beh, beh Ultimamente ho messo su qualche chiletto Sì, qualche No, non questo Cosa le occupa a te? Ecco C'è questa ragazza che lavora con me al club, maestro Io la trovo fantastica Ma lei non mi considera minimamente E chi sa perché Lei sono Un perdente Solo sono un perdente Capisco Classiche cose che succedono Se tu vuoi impressionare la ragazza Di movimenti le alle Soppiaggio da due dei tensei Che tengo Alla lealtà È come Dimostrando Di essere sincero E responsabile Questo anche andare bene Ma tu devi fare capire Che lealtà è importante valore per te Ah È così strano sentirlo parlare Mezzo cinese Mezzo Italiano È un po' complicato Non guadagno un granché al club No, questo è sbagliato Non posso credere tu tanto stupido Io parlavo di quello che hai dentro Di tua essenza La mia essenza Fa silenzio panda Libera tua mente da desideri e pensieri Telleni Cosa sto guardando io Cosa sto guardando La mia essenza Ah Starà parlando del mio profumo Sì Profumo barrapuzza Vabbè Quell'altro si sta sforzando a cagare Praticamente Mi ha fatto chiamare Signor Polaris Esatto Pancada Tu mi hai dato una grande idea L'altro giorno Le ho dato una grande idea Io? Eh no Che io E oggi è arrivato il giorno In cui la metterò in pratica Davvero? Sì È nato un nuovo lottatore L'orso del mistero Oh Sa una cosa Forse sta lavorando troppo Signor Polaris Ah io non sono Polaris Sono il grande orso del mistero Tremate Dovrai chiamarmi così Quando indosserò il costume Ok ma Non credo di riuscire più a seguirla È semplice pancata Questo risolverà i nostri problemi Io non posso tornare sul ring Senza perdere la gestione del club Ma il grande orso del mistero Può combattere senza problemi Questo non lo so Ma io sento puzza Ho capito la sua tecnica Ma non credo funzioni No dico letteralmente Sei rigenziato Ma sei assunto come lottatore Non ha sento questa frase ma ok Ma sono io Questi vestiti non vedono la luce del sole Da quando vendetti la volta E suppongo che sia passato molto tempo da allora Troppo Tieni ragazzo Dagli una bella lavata Io intanto resterò qui A prepararmi per l'incontro In mente un paio di strategie Per battere quel fenomeno Ricevuto signore C'è la cosa bella Prima gli ha chiesto al panda Di lottare E poi tutto un tratto Ha cambiato idea Nel mentre il signor panda Adesso starà imparando Le tecniche Della box Poi non ho capito Siamo in Cina Cina barra Italia Non si capisce dove siamo E invece di fare Kung Fu Facciamo box Proprio per Per non avere il copyright Sulla storia Eh pancata Sì Questo è il nostro piccolo segreto Chiaro Cristallino Ah ragazzo Certo Sì Ricordati che conto molto su di te per stasera Io ho dei dubbi Come potrebbe andare questo Questa storia Sì Attento alle ormonie Signor panda Che cosa c'è di buono Sei contento perché è andato alla grande ieri sera Che hai fatto Oh ieri sera Ieri beh Ieri ero 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 qui con tutti voi A vedere quello stupendo incontro di box Non ti ricordi Eh Ricordi Bleh Ciocchino Intendevo dopo che sei uscito da qui Sì Dopo Beh Ecco Avevo delle questioni personali da risolvere Ibo A proposito di questioni personali Ho una questione personale Che devo sbrigare proprio adesso Quindi devo andare Niente di personale Mi dispiace scusa Ci vediamo dopo Ciao Una questione personale Era quella con Federica Probabilmente A fare pensieri sul di lei Certo che quest'orso diventa più strano Ogni giorno che passa Chissà perché Spero sappia fare la lavatrice Il panda Che poi l'ha chiamato orso Ma con dettagli E un panda è un osso Chi lo sa Può essere una fusione tra entrambi E come esplode la lavatrice Ma tipo come quelli della rabbia Un'esplosione fenomenale Ah no Che sta facendo adesso sto panda Ma pure adesso starà ballando Ma Beh Così dal nuda si mette a ballare questo Ma che cazzo di problemi ha Chi ha scritto sta storia Ma chi l'ha scritta Io a Boso è rimasto senza parole C'è qualcuno qui sotto? E no Chi poteva essere? Che cosa stai combinando? Alcune mosse di arti marziate Ah Quelle arti marziate E da quando ti intercambi Ma come lo spettai la storia? Ma che cacchio Ma io non so nemmeno l'esistenza Di questo cartone Fino a qualche tempo fa Combinando con la lavatrice Niente niente Lavo gli stracci Ehi hai sentito? C'è un cliente che chiede da bere Ma Non ho sentito nulla Beh credo che sia meglio andare di sopra comunque Non si sa mai eh Ma che cos'è sto cringe? Vado Ok che la grafica è del 2007 Però Ok Ho visto cose migliori nel 2007 Sembra stato fatto da uno che sta appena imparando Come si utilizzano i programmi Per fare animazione Guarda il titolo C'è da non credere Orso mascherato sfida fenomeno orso Mela male che indossa una maschera Così nessuno saprà la sua identità Ma quella non è una maschera Ma chi l'ha scritta? Questa storia È solo un codardo Un vero uomo non nasconderebbe la sua faccia Pur sapendo di perdere Ma no Non ha messo nessuna maschera Quella è una cosa ridicola Cosa vuoi dire? Parli come se lo conoscessi Oh no Penso solo che si debba dare a tutti Perdenti Ma no Penso che gli si debba solo dare la possibilità Beh ecco Che cosa vuol dire sono tutti dei perdenti? Se lui diventasse il nuovo campione Sì sì Tu diventerai un ballerino Beh questa mi è piaciuta come battuta Non lo trovo affatto divertente signor Muccino Anzi direi che lo trovo molto ridicolo Ora ho capito perché l'hanno chiamato così Vieni nel mio ufficio Quest'orso mascherato non ce la può fare Credimi Non ci sarà nessuno disposto a scommettere Ma sono proprio intelligenti i sosti personaggi E si mancara a queste ragioni? Ma come ridono Non lo so nemmeno io Non ci scommetterai neanche i tuoi saldi Cioè non è che ha visto Ha guardato la foto bene Cioè Ha detto solo di indossare una maschera Ha pensato che era un'altra persona Ma Non ha capito che era quell'orso Sono intelligenti qua Non so per quale pubblico È adatto questo cartone Ma anche il pubblico a cui è riferito Sono proprio intelligenti Eh E quindi Allora pancata Stasera la grande serata I titoli dei giornali Non parlano d'altro Ragazzi Non vedo l'ora di indossare Mi sembra che non è ancora arrivato Il momento con lo cringe Ti sei ricordato Di lavare il mio costume Non è vero? Non si preoccupi Certo che me lo sono ricordato E come nuovo Profumato E pronto per lei Allora Se è già tutto pronto Come dici Perché non ce l'hai qui con te pancata? Beh devo soltanto finire a destilarla Hai visto postori della Dingo Pictures? Quella no ancora Quella mi manca Ma se mi dici che Cringissima Trescissima Prossima settimana Probabilmente Guarderemo anche quella Se me lo confermi Indossare un costume Tutto spiegazzato La sera del suo grande ritorno Sul ring Vado subito ad occuparmene Signore E torno in un valino Ma che c***o È peggio di Homer Simpson Quando scende le scale Al buio Eh qual è il problema? Sembra che si sia ristretto un po' Beh Poteva andare peggio Ma il signor Polares Non si è ristretto Per me non sembra ristretto Poi non lo so come ha visto lui E all'angolo sinistro Con un peso di oltre 800 Ma c'è che ti mandi di video? Il campione nazionale Di mesi massimi Da due anni consecutivi Il feroce Fenomeno Mamma mia quanto è possente E lo sfidante Mascherato di stasera All'angolo destro Con un peso di oltre 800 libre È l'orso del mistero Misterioso eh Nessuno se ne accorgerebbe Della sua identità L'unica cosa misteriosa Di questo babbeo mascherato È quanto tempo passerà Prima che cominci a chiamare la mamma Signore e signori È arrivato il momento I poteri si stanno preparando I rispettivi angoli L'incontro sta per cominciare Ma che cazzo Oh Non ci posso credere Ma quello è Sembra proprio pancata Come cacchio Mi sono ristretti i vestiti Ma chi cacchio L'ha fatta sta animazione Ma poi in realtà Non è nemmeno pan grazio Come cazzo si chiama Lui sta ballando adesso Oh f*** Ma io non lo so Che cavolo sto vedendo C'è un misto tra Breakdance E E quell'altro Quell'altro ballo Come cacchio si chiama Quelli degli anni 90 Sembra tipo le animazioni fatti male Dei primi WWE Più o meno Guardi signor Muccino È proprio pancata Ecco perché stava dicendo Tutte quelle sciocchezze Questa mattina No Non è pancata Come cacchio Ma sono cechi questi Mettetevi un paio di occhiali Veramente hanno fatto cechi Sti personaggi E' la lotta più brutta che io abbia mai visto Wow Fai paura Oddio Che sta succedendo Oh è tiragli un gancio Un destro Un qualcosa No Un rallentatore Si muovono Ma che è sta lotta Ma 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 io che cazzo sto vedendo Bene signori e signori È passato parecchio tempo Dall'ultima volta Che abbiamo assistito Ad un incontro del genere Che ho detto Che i panda Non sanno combattere Non è un panda Siete proprio Madonna Quest'altro Sta ballando ancora Pensa di essere il ballerino top numero uno Quell'altro Prima gli diceva di tutti i colori Adesso sta annuendo il suo ballo Così A caso Si usa che era proprio quella La base della canzone Perché l'ha capita Non ti servirà più la maschera Per nascondere la tua identità Ho paura che ti stia sbagliando Ormai il tuo tempo è finito E' una madonna Oh Proto twist Proto twist Che affascinante Quel panda Non posso credere Di non essermene mai Adesso si è innamorato del panda Che adesso sta continuando a ballare Si sta lanciando Contro i tizi Ah no Ha aperto una porta Signore e signori Questo è un incontro Che tutti stavamo aspettando Sembra incredibile Ma Fenomenor Si ha trovato pane Per i suoi denti Eh ma madonna Che Con che qualità Poi me lo dici Questa mossa Quella lanterna Le ho comprato una settimana Va bene Va bene Quindi abbiamo trovato Cosa fare il venerdì Oh Come cacchio l'ha lanzato E' fisicamente impossibile Tutto l'alentatore succede questo Non credo funzioni così E' un pugno Che ci metta In un bosco Per ritirare Signore e signori E' stata una vera sorpresa L'orso del mistero Mandato al tappeto Il campione Strappandogli Il titolo La tua esecuzione E' stata impeccabile La tua tecnica Semplicemente superba Se non fosse stato Per quel salto Alla fine del pezzo E non so davvero Che cosa dire Io ballo Quello che sento Capisce Si vede che hai grande talento Ma non possiamo Purtroppo accettarti All'accademia Non capisco Ha detto che sono andato bene Danciare quello che si sente E' un'ottima cosa Signor Pancada Però non può modificare La coreografia Ma era tutto perfetto Fino al finale Non potete lasciar correre Io penso che sia Una qualità molto apprezzabile Anche se lo ha portato A una conclusione Del pezzo poco felice La sua performance Mi ha lasciato qualcosa Sono d'accordo Sul fatto che lo spirito Della performance Sia stato molto emozionante Devo esprimere il mio disaccordo L'esecuzione era imperfetta E poco curata Io vedo un grande talento grezzo Che col tempo Quella parla come un robot Grande ballerino Inoltre se accettassimo Saresti il primo panda A frequentare l'accademia Su questo abbiamo dei dubbi Non credo sarebbe positivo per te La nostra accademia Vanta una rigida tradizione Centennale Che sarebbe? Sono molto fielo di te Pancada Tu danzati Ma questo cosa c'entra Che fino a poco tempo fa Insegnava Gli arti marziali Che caccio insegnava lui? Ma quel salto finale Era una schifezza Giovane panda Ma che Ma no Povero panda Povero panda Ha fatto schifo il signor panda Io mi ricordavo che i panda Camminassero più veloci Dico sì Ma va bene Che quell'altro O quell'altra Credo sia la tizia del Immaginavo Dorme per panda Ci vediamo dopo Salve Ah quest'altro Era un altro sfidante Pantantico Pancada Semplicemente spettacolare Un tipo dolce come te Con quella grinta Ma come Io non sapevo neanche Che tu fossi là No c'era come amico E ho visto tutto Lasciami dire Che il finale è stato Davvero sensazionale Non avrei mai pensato Che sapessi Lui sta pensando Che sta parlando Dalla sua coreografia di danza Ma in realtà Non sta parlando Di quello Sì il panda Non ci arriva Perché Non lo sa Nemmeno lui Di cosa sta parlando Sei proprio riuscito A tenercelo nascosto Ma ora sei una miniera d'oro Ponterà sempre Sì ma soffiati il naso Cioè Chi è che ha pensato Un personaggio Del genere Ho visto tutto Come una catapulta Sì ma chi ha disegnato Quel personaggio Con il moccolo Ecco ma ora va fuori Del suo balletto Sensuale Se così si può definire Bene Vediamo questa scena Di questo panda Che cammina Giusto per allungare Un po' il brodo Oh più veloce Sta scena però Che cosa sono Quegli striscioni Che spettacolo Ora si prende Si prende Tutta l'ammirazione Di cui lui Non sa nemmeno Da dove proviene Sono molto arrabbiata Con te Per avermi tenuto Nascosto il tuo grande talento Tutti non fanno altro Che parlare Di quanto tu sia Attenzione che loro Finiscono per zippare Alla fine Da quanto pare Vedo la ragazza Un po' ingripata E poi così speciale Così siamo Così siamo Lo sai benissimo Di essere un fantastico panda Non è vero? Beh io credo Di essere abbastanza speciale Mi ha fatto molto piacere Incontrarti Ora devo andare al lavoro Cioè io fossi stato Il doppiatore Non avrei partecipato A questo film Cioè Già dalla qualità Si capisce A che cosa Stiamo andando incontro Allo schifo Lo schifo più totale Ma non è ancora Niente questo Andiamo eh Ci puoi scommettere Orsacchiottone Ciao Ok Ok Allora Hai sentito di ieri sera? No certo Sono tutti così carini Come Questa poi Sei suonato? Hai la segatura nel cervello? Credono che fossi tu Eh io infatti Questo è quello che credono, ma noi sappiamo che in realtà sono stato io a battermi. Persino tu lo credi, il che è ridicolo, perché lo sai benissimo che ero io. Non lo sta dicendo. Non starà cercando di prendersi il merito della grande impresa di pancada. Sì, ma io non lo so. O sono ciechi queste persone che non hanno visto la differenza di altezza tra un panda e un orso. Ah, adesso capisco. Ma è fantastico, fantastico. Un grande esempio per tutti. Ma capo, sappiamo benissimo che non è stato lei ad allenarmi. Io ho preso lezioni dal maestro Shin. Pancada, hai perso qualche rotella? Che stai dicendo? Chi è questo Shin? Il maestro Shin, è lui che mi ha insegnato a ballare e mi ha allenato. Ah, quindi lui è andato ad allenarsi per il ballo da questo maestro Shin. Qual quadro non cosa, qual quadro non cosa. Successo, insomma non è di questo che parlano tutti. Vuoi dire che... Come cacchio si muove. Sembra che c'è di spasmi. Non ci parlano, è che noi... Oh, scusa ragazzo, io... Scusa ragazzo, questo è davvero buono. Vedi, io avevo proprio capito che stavi parlando di... Beh, vedi pancada, io credevo che tu stessi parlando dell'incontro. Ah, come ho fatto? C'era arrivato. Ero talmente preso dalla mia audizione per l'accademia di danza che non mi è neanche passato per... La testa, com'è andata? Ha vinto capo. Ma, secondo te... Tu hai vinto ragazzo, o meglio, ho vinto io, ma il costume era talmente ristretto che invece di un orso polare ho finito per assomigliare ad un panda. E mi lasci indovinare, tutti hanno pensato che ci fossi io sul ring. Hai colto nel seno, amico. Sì. Ma io che pensavo che fossero tutti entusiasti per la mia audizione. Mi dispiace tanto, credo proprio... Non ti ha cagato nessuno, praticamente, amico mio. Non ci provare nemmeno. Dobbiamo concentrarci invece sulla prossima mossa, dobbiamo prepararci per il prossimo incontro. Sì, ma io che cosa c'entro in tutto questo? Visto che Fenomenorcio ha chiesto la rivincita, io farò finta di essere te e tu mi aiuti. Oh, no. Ah. Non voglio avere niente a che fare con questo combattimento. Non sono salito io su quel ring, capo è stato lei. E se anche tutti pensano il contrario, io e lei sappiamo che è così... Sì, passa la voce. Se qualcuno ci sente, rischio di perdere il club. Eh, vabbè. Sto parlando di qualche enorme sciocchezza voi due o cosa? No, in realtà ci stavamo consultando sulle strategie da usare nel prossimo incontro, vero, capione? Oh, certamente. È proprio di questo che parlavamo. E... Ti sei fatto male? No, niente di serio. È tutto al posto. Ok, questo è il piano. Pancada, io salgo sul ring. E tu prendi tutta la gloria. Capo, cerchiamo di ragionare. Questa è una pessima idea. Oh, andiamo. Pensa come le ragazze impazziranno per te. Eh, beh. Questa è una cosa ottima da fare. Ecco, effettivamente... Non è male avere... Come conquistare la figlia gratis. Ma come cacchio si muove sto panda? Ogni mossa che fa è fatta male. Vedo che tu non pensi solo all'allenamento. Forse tua mente ingombla di pensieri diversi da danza? No, sono molto concentrato, maestro. La mia mente è esattamente dove deve stare. Non credo che tu dici verità. Io penso che tu distratto. Io non ho toglierli, sai? Questa si capiva. Questa è una giornata piuttosto stressante. Proprio come pensavo. Questo slas viene dalla gazza di cui mi hai parlato poco tempo fa? No. Beh, forse un pochino in realtà c'entra anche lei. Ma la cosa positiva è che finalmente mi ha notato. Ah, io contento ti ho fatto buon uso di miei consigli su amore. Ma io molto stupito. Non credevo sarebbe servito a qualcosa. Non è stato preso i consigli. A dire il vero è il motivo per la mia notazione. Ma tu è essere campione. Solo che campione di danza, non campione di boxe. Cambia tantissimo, amico mio. Ma la ragazza che io sia un campione di boxe, sa, un muscoloso lottatore. È una storia un po' lunga. C'è stato un malinteso al club dove lavoro. Tutti pensano che io sia qualcuno che non sono e ora sono costretto a far finta di essere questo qualcuno. Io ve l'ho capito. La ragazza piace te perché pensa che tu è campione di boxe, giusto? E quindi? Sì, e non so proprio cosa fare. E quindi ci è arrivato finalmente. Ma lei non capisce. Se dico la verità, il signor Polaris potrebbe finire nei guai. E se devo essere del tutto sincero, mi piace molto come hanno cominciato a trattarmi i ragazzi al club. Allora tu devi onorare le fiducia che i tuoi amici ve le li posto in te. Oh. E se ti piace essere glossolottatore di boxe, allora tu diventalo. Tu sei tenuto onorare questa fiducia. Scherzo. Non ci vedo adatto per il boxe, lui. No, è impossibile. Io non credo nella violenza, Riccardo. Tu combatte odicevillità agli amici. Non posso io. Ti tocca, amico mio. Se vuoi la figa, devi combattere. Basta di pallare. Forse tu trova l'isposta dopo meditazione. Ma perché sempre con questa posizione che stanno per cagare da un momento all'altro? Si stanno sforzando proprio nel cesto. Ecco, come sempre, il solito giornale. Questa è la clip che hanno riutilizzato per l'ennesima volta. Sbancatemi la pagina! Bene, grazie per la clip riciclata. Anche questa mi sembra un po' riciclata. Sì, vieni pure avanti. È piena di scene riciclate qui dentro. Fenomen Orso vuole fissare il secondo incontro. Come, ma... Ma perché è così presto? Credo che voglia riprendersi il titolo prima che la gente lo dimentica. Beh, ma... Noi non dobbiamo per forza accettare, vero capo? Ragazzo, dobbiamo per forza accettare. Non possiamo perdere la popolarità proprio adesso che l'abbiamo appena conquistata. Dobbiamo dare al pubblico quello che vuole in fretta. Quindi se vogliamo risolvere il problema, dobbiamo metterci a tavolino e pensare. Signor Polaris, come pensai io? Non sono un granché come Pugil. Tu non devi preoccuparti di nulla, ragazzo. Sarò io a salire sul drink al tuo posto. È di questo che volevo parlarle. Voglio essere io a combattere con Fenomen Orso. E moriva il bello. Moriva il bello, secondo me. Ma mi sono accorto che mi piace essere trattato da campione, signor Polaris. E beh, la fama è la cosa più bella. È una questione di orgoglio e di coerenza. Pancada, tu non sei un pugile, sei un ballerino. Lascia che a combattere sia io. Tu devi solo firmare... Ballerino poi. Che ballerino. Ballerino. Solo se a combattere sarò io. Non mi sei stato a sentire. Non lascerò che ti avvicini a quel drink. Sono stato chiaro? Ho combattuto io il primo incontro e combatterò anche il secondo. Non voglio sentire un'altra parola da te. Signor Polaris, andrà a raccontare a tutti, compresa la stampa e il nostro inganno. Ehm. E mo' l'ha ricattata. E così, prendere o lasciare. Ah ragazzo, tu non hai idea in che guaio ti stai cacciando. È troppo tardi, ormai ho deciso. Io combatterò. E mo' vedremo delle belle. La fama non è tutto, vero signor Pancada? Beh, per lui vedo che è abbastanza. E quindi? Vabbè, questa cena è inutile, secondo me. Che strano, Pancada sembra molto più alto quando è sul ring. Ehi, signor Muccino, aspetta con ansia anche lei l'incontro. Certo, sono sicuro che Pancada si farà valere anche questa volta a quel ragazzo a grinta da vendere. Ha proprio ragione, ho sempre pensato che fosse speciale. Perché mentre ha parlato, si è messo le mani nelle orecchie. La prima cosa che ti insegnerò oggi è come ci si difende. Bene. Sono pronto. Ma che stai facendo, ragazzo? Non puoi tenere gli occhi chiusi. Devi stare attento e osservare sempre da quale direzione arrivano i pugni. Non ci ho mai pensato. Ma va, tu non ci pensi mai. Una lunghissima giornata. Ma che sta a fa' Che cazzo sta a fa' Con che qualità me lo dice. Qualcuno mi dice che cazzo sto vedendo? Ma come fai a farti male? Va bene. Questo proprio è un... Ha la forza... Forza, oddio. Chiamasi forza quella, eh. Ecco, alcune scene riciclate per l'ennesima volta. Perché budget basso, quindi... Clip... Ce ne sono poche. Allunghiamo il brodo con qualche clip di utilizzata. Oh, ma ce la fa il nostro eroe a tirare un pugno. Ah, direttamente con la testa. Ebbè, mi sembra più che giusto. Ma poi, guardate la panza come panna certa quando si alza. Proprio si piega. Mi sembra altro che Adriana. Qua proprio urla per disperazione. Perché che sta a fa'? Vabbè, io non ho mai visto così tanto trash in un solo cartone animato. Preferivo il dinosauro a sto punto con il doppiaggio pessimo. Oh, ce l'ha... Ha imparato la tecnica. Quasi, quasi. E guardate la panza come fa. Appena si alza, proprio... Si leva un pezzo di panza. Diventa tutto molle. Non piegarti troppo. Ecco, ancora una volta, l'ennesima trusco. Vai, vai panda. Ce la puoi fare. Sono fielo di te, pancata. Sei diventato davvero un campione. Io penso che tu vince oppure... Tu pelde e finisce pestato a morte. No! Ma forse mi converrebbe davvero lasciar perdere questo... Ma povero panda! Ah, razza di idiota! Ma che cosa ho per la testa? Non batterò mai, fenomeno orso! Ebbè. Pensa a questo come esercizio di meditazione zen. L'espina felice di esistere... Forse il fenomeno orso consentirebbe a cambiare la competizione facendola diventare una gara di danza. Sì, accetterebbe, guarda. Oh, grande, sei tornato, bro. Ti sei perso un po' di trash. Ti sei perso un po' di trash, un po' di scene particolari. Praticamente questo panda non è il panda che, diciamo, ad inizio è colui che combatte, che impara il kung fu, ma è colui che balla. Vedrai adesso come da ballerino passa a uno che si fa picchiare sul ringer. Probabilmente. Hai ragione, maestro Shin. Ricolta, se combatti come balli, andrà tutto molto bene. Eh, che sto a vedere. In questo angolo, con un peso di 800 libre, vincita la prima serie di 45 incontri consecutivi. Per due anni di seguito è stato campione mondiale e oggi è lo sfidante e lo spaventoso... Fenomeno orso! Sei bellissimo! E in questo angolo l'attuale, campione dei pesi massimi in carica. Un orso che ha stupito tutti con il peso di 600 libre. Però, ragazzo, sei dimagrito. Sarà la paura! E anche accorciato nel mentre. Come stavo dicendo, il fantastico nuovo campione del mondo dei pesi massimi non ha bisogno di presentazioni. PANCADA! Adesso ha cambiato nome, però. Ha messo il suo nome originale. Ma perché prima si chiamava l'orso mascherato. Non ho mai visto il club così pieno di clienti. Ti mi hanno dato un sacco di mance. Ho detto prima e lo ripeto adesso. PANCADA come fuggile è una miniera a doro. Sì, sì. E adesso vedrete di che pasta è fatto il signor PANCADA. Sempre si sa fare delle mosse. Ricorda cosa ti ho detto, ragazzo. Schiva e attacca. Hai capito? Mi si sta rivoltando lo stomaco. Non ero così nervoso. No, non è quella scena che sto pensando. Quella che si vede anche in Gumball. Non è quella. Non fatti prendere dal panico. Ti sei allenato molto. Ora vai, fatti coraggio e combatti. No, non farlo. Poi da guardare le mosse come vengono fatte. Signore e signori, è incredibile. Dopo neanche un minuto da due. Madonna. Un pugno ha dato. Un pugno. Stupidissimo pugno. E lui è croato. Quattro. Vai, alzati uomo. Cinque. Vedo che è un mostro speciale. Vai, ti fate tutti per pancata. Dammi o fai appogli. No. Ebbia, madonna, per dare leggere una regina. Con quel pugno ce ne vuole. Vabbè. Panda, che cosa stai cercando di fare? Mi vuoi far arrabbiare? Ma io queste mosse non diventavo da i primi WWE per PS1. E' diventato praticamente un sacco da boxe il nostro parma. Signore e signori, sono stupefatto quanto voi. La bamba. Cosa c'entra? La? La bamba. La bamba! Probabilmente è quella che si sono presi Coloro che hanno creato questa opera d'arte Dov'è il campione che ci ha fatto sognare? Dov'è il pancada? Chiamiamo tanto Dai pancada Lo so che non ti arrenderai così facilmente Dagli una bella lezione Maledizione Sapevo che sarebbe successo Quel ragazzo è un perdente nato No Ma perché lo danno dal perdente Al povero pancada Liconda Se combatti come balli Andrà tutto molto bene Non è utile questa cosa Ecco Dimmi che arriva la mostra speciale Il pancada sembra avere finalmente riacquistato le energie Forse ha seguito la sua strategia fin dall'inizio Che cosa sta facendo? Che cosa sta facendo? Credo che ti piace giocare a stupido panda Adesso vediamo se ti piace giocare al mio gioco Ma naturalmente sarò io a giocare Signori che cacchio stiamo vedendo? Uno Due Tre E quattro E cinque Sei Ero panda Sette Otto Io non ho visto pugni violentissimi Cioè Uno stupido pugno E questo è andato K.O. Signori e signori Pare proprio che pancada sia stato messo K.O. Dallo sfidante fenomeno orso Che ha riacquistato il titolo Va bene E chiude così la brevissima carriera da campione di pancada Con solo una vittoria all'attivo Fenomen orso esulta da solo Tra lo sbigottimento del pubblico Che non si sarebbe mai immaginato Una sconfitta di quello che era diventato un eroe Un vero peccato per pancada E niente signor pancada Rimane e rimarrà per sempre un perdente Che cartone di merda Posso dirlo Signor Polaris Posso parlarle un momento? Mi sa che ti licenza a sto punto Cosa c'è pancada? Oh pancada Va bene Signore Io mi chiedevo se potessi parlarle dell'incontro di ieri sera Penso che sia qualcosa che non vale la pena di ricordare no? No Esattamente questo Volevo chiederle scusa È stata tutta colpa mia Sono io che ho insistito per salire sul ring Era meglio che non faceva questa cosa Ho fatto un tantissimo pasticcio E ho tradito le aspettative di tutti Potrò mai perdonare Non ti preoccupare pancada Il passato è passato E se devo dirla tutta Il presente si profila sempre più rose Ogni minuto che passa Ah Lo dice lei È proprio vero quello che vedo Se non sono diventato matto Qui c'è qualcosa che puzza di imbroglio E meno male che si sta accorgendo Tu hai brutta intenzione la maledicazione La tua brutta figura di ieri sera Ci sta E quando male In questo modo solo per motivarti E questo stupido piccolo panda Deluso tutti quanti Non posso vivere con questo pesante rimorso sul cuore Perché? Non riesci proprio a capire eh ragazzon? Tutti pensavano che tu avresti fatto fuori fenomeno orso in un batter d'occhio Lo so È per questo che provo tanto rimorso verso tutti Ma io Ho scommesso tutto sulla Ma no Ma cos'è questo contro? Non è leale Ma no Ma no Ma no Ma in realtà se non fosse stato per te Tutto questo non sarebbe mai successo Oh signor Polaris Devo aver visto Ma che cosa sta insegnando sto cartone? Ma che sta insegnando? Ascolta Ci saranno grandi cambiamenti qui d'ora in poi Tipo? Ecco Ma sta scoprendo qualcosa il signor Mocciolo Ho finalmente di aver capito tutto Buongiorno signor Mocciolo Ci ha messo tanto tempo per capire la verità Ti ho smascherato maledetto doppio giochista Hai violato i termini del contratto Polaris E dovrai pagarne le conseguenze Sì Girati e guardami negli occhi Finto panda No È proprio lui No signor Moccino Cerchiamo di metterci tutti d'accordo Non fare il furbo Polaris Indossi lo stesso costume che avevi Quando hai violato la clausola del contratto E sei salito sul ring Io non sono l'unico a saperlo E mo si scopre che è veramente Il panda Ehi ma è matto Darsi fermi Mi fa male Ok quindi non stai indossando un costume Sei pancata Ma la voce Non riesci a capire Nelmeno la voce Ma questo è un intelligentissimo Aveva paura di commuoversi troppo Come? Che cosa intendi con dire addio? Dove è andato? Abbiamo degli affari Affari da concludere Certamente Non si agiti così signor Mocciolo Le assicuro che tutto continuerà a funzionare Esattamente come da contratto Sì ok ma non potrebbe occuparsene lui Il signor Polaris ha deciso di ritirarsi dopo aver vinto un sacco di soldi scommettendo su Fenomen Orso Si è portato via tutto scommettendo su quell'orso perché sapeva di non essere lui a dover combattere razza di imfraglioni Ehi cerchiamo di non essere offensivi signor Mocciolo Io ho perso lealmente Non ho combattuto per perdere Ho combattuto per vincere Ma nel primo combattimento tu non eri tu eri Polaris Sì questo è vero Ma tutti hanno pensato che fossi io a battermi Quindi non ho potuto tirarmi indietro nel secondo incontro con Fenomen Orso Ma dov'è Polaris non può farmi questo Noi abbiamo un contratto da onorare che ci lega Che dispiace I soldi Prima di tutto Sono sicuro che si renderà conto che è tutto in ordine Sono stati estilati nuovi contratti Il capo li ha già firmati Non ci capisco più nulla Dov'è Polaris Ma mi pare di aver capito che si sia preso una lunga vacanza in un villaggio turistico molto al nord Chi si occuperà del club ora? C'è la propria di fronte Ma tu non sei un fogile? Non sai organizzare incontri? Non mi importa Gli incontri non mi interessano per nulla Ma va tutto bene Ho altri progetti per il club Ho paura di questi progetti Ah lui è tornato direttamente a casa propria Nel Polo Nord No No Ma che cazzo Vabbè Pensavo se si mettesse a ballare Ora il club è diventato un bar Soltanto Ok Ma faccio accompagnare al tavolo signora Tavolo 17 Ehi 17 No Non mi dire Non mi dire che si esibisce nel ballo Non preoccuparti Andrà tutto bene Sì Me lo potresti ripetere ancora Oh Cristo Oh Cristo È il cartone animato più inutile che io abbia mai visto Ho cambiato modo di pulire il pavimento Vabbè Non mettiamo importanza Ma io che cazzo ho appena visto Io che cazzo ho appena visto Ho sprecato 50 minuti della mia vita a guardare Sto panda inutile Sto panda che è un pappamolle che Come è risolto la questione Trasformando il locale in un bar E mettendosi a ballare Ma io che cacchio Io boh Io boh Cioè Ora ditemi Chi ha visto questo cartone adesso Mi spieghi che cacchio Significava Che significato c'è dietro questo cartone Per esempio Se in seguito ai sogni E Non essere ciò che non sei Oppure Se sei un pappamolle Rimani pappamolle Se sei perdente Rimani perdente Che Che significa Che mi significa Che mi significa Babò L'avevo detto io che questa era l'apoteosi del trash Il cartone più inutile mai creato Ma vai come la Dingo Pictures La Dingo Pictures Di diverso a questo Ha Il doppiaggio che è trascissimo Quello non lo batte nessuno Non la lotta sia al ballo Ecco Come citava un famoso spot Non ha colesterolo Sia al bassoia Quindi in questo caso Non la lotta Sia al ballo Mi sono emozionato Guardando questo cartone Pensavo avessero inserito La clip Che c'era in Gumball In Gumball Praticamente Succede che nella lotta Questo panda Inizia a scorreggiare Come mossa Peccato non hanno inserito quella Sarebbe stato bello Quindi quella è la parodia della parodia Quindi Peggio ancora Che c'era in Gumball